Giorno 22 ottobre si è tenuta all'Università di Catania, al Dipartimento di Scienze Politiche, il primo convegno sulla vicenda MUOS. Per la prima volta, da autorevoli voci accademiche siciliane, è emerso che il MUOS è stato posto in violazione del diritto costituzionale e ambientale. Tema dell'incontro, basi militari straniere in Italia. A relazionare il professor Rosario Sapienza, che ha classificato le basi straniere in Italia su base di fonti del diritto internazionale, il professor Agatino Cariola sull'uso delle basi militari, il dottor Arturo Di Bella sulla Sicilia nella geopolitica del Mediterraneo, il professor Gianni Piazza sui movimenti territoriali contro le basi militari in Italia, il professor Ugo Salanitro per quanto concerne l'impatto sul territorio e sulla salute. Ha coordinato i lavori l'avvocato Sebastiano Papandrea, il quale è intervenuto sulle controversie giudiziarie che ruotano attorno alla realizzazione del sistema di comunicazione satellitare di Niscemi. Giorno 23, invece, la questione MUOS è approdata a Roma. I parlamentari dell'Intergruppo per la Pace hanno incontrato il coordinamento dei comitati non MUOS, rappresentato da Nadia Furnari, Antonio Mazzeo, Massimo Zucchetti e Sebastiano Papandrea. E' intervenuto telefonicamente a margine Giampiero Trizzino. Il gruppo parlamentari per la pace, rappresentato in questa occasione dagli onorevoli Giulio Marcon, Paolo Beni ed Erasmo Palazzotto, che ha coordinato i lavori, si occupa di sostenere le iniziative legislative di carattere politico e culturale sui temi della pace, della non violenza e del disarmo. Grazie a tutti!